Vediamo un po' come sarà questo gioco Visto che tutti hanno detto che è il gioco della storia È il gioco che ha fatto la storia della Playstation È il gioco dell'infanzia di molta gente Perché non giocarlo allora? Che faccio? Me ne privo? E no che non me ne privo E no che non me ne privo Che so scemo io Che so più scemo di tutti quanti gli altri che ci hanno giocato in passato Che hanno avuto la possibilità di giocarci Certo che no Andiamo andiamo a noi Andiamo a noi Ecco qua lo dovrebbe catturare il gioco L'avevo pure inserito perché si è tolto di nuovo Ok dovrebbe catturarlo adesso il gioco Eccoci qua Col mio paddino un po' baggato perché non mi funziona questa levetta Non me la legge più L'ha reso tutt'uno con questa levetta Quindi è un casino Ha il volume Come cacchio si Vediamo se riesco a settare qua il volume In qualche modo Volume Volume Dovrebbe essere Ok dovrebbe essere Col più o col meno Vediamo se funziona Se è col cavolo Facciamo prima così Facciamo direttamente dal mixer Di windows Così non abbiamo problemi Con le audio Oh perfetto 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 Adesso non è altissimo Boh forse devo abbassare un altro pochino Giusto per non sovrastare la mia voce All'audio di gioco Ok ok Adesso dovrebbe andare Vai iniziamo Inizio proprio da zero Quindi è tutto nuovo Quello che sto a fare è tutto nuovo Creazione nuova Nuova partita Tutto nuovo Non ho fatto nulla Ok Nella terra dei draghi Vediamo cosa è successo nella terra dei draghi Dei dragoni I draghi Quel che so Pure io vedo i draghi ogni tanto Motore Cosa Che pace qui nei cinque mondi Oh sono sei Da un po' di E se non lo sai tu quanti mondi sono Un drago Ora abbiamo dodicimila tesori Un culo Un culo Può dirci qualcosa su questo nastinorg Pare che abbia scoperto un incantesimo Per trasformare i diamanti in guerrieri Risponderò io Da quando in qua i draghi parlano E fanno le interviste Semplice È confinato in un mondo remoto E non rappresenta certo Una minaccia per il regno dei draghi Cosa E inoltre È brutto Brutto Questa poi Ma da dove lo sente poi Ma che c'ha la telepatia questo Sembra che ci sia bisogno del mio intervento Ah meno male che te lo sei detto Aspiro È certo che c'è bisogno del tuo intervento Oh dai L'avventura comincia Dai E cominciamo st'avventura Ok Allora Un attimo che devo fare una roba Ok In modo che non mi cattura il cursore Se no Mi si vede sto cursore Odioso Poi lo devo riattivare Nel caso Allora Che dobbiamo fa Chi dè questo Grazie per avermi liberato Spiro Ma così si è liberato Molto semplice Ti trasporterà nel prossimo mondo E Nasty Gnorc Io stavo cercando lui Trova i draghi È Tutto ciò che posso dirti So io come trovare i draghi Però devi usare sostanze particolari Ecco Ok Ciao Spiro Salva la partita E ascolta il drago Salva la partita Perché faccio me ne privo Anche se c'è un altro modo per salvare la partita Allora dove devo andare Devo uscire da qua Se vai dritto Grazie Non andare storto Mi raccomando Allora forse di qua Ok dobbiamo prendere tutti sti rubini Mi pare Ok l'ho preso Ho preso due Ok Penso di aver dimenticato qualcosa Allora di qua Dovrebbe esserci Ok con questo si salta No porco due So caduto Mannaggia So caduto Eh la visuale è un po' Un po' Macchinosa ecco Da girare Mi ci devo abituare in qualche modo Oh porco due Ah ok Può attaccare così Quindi ogni cosa che ammazzo Mi dà una così in più Che sono Cinque Allora Un rubino ne vale uno E invece uno smeraldo ne vale Di più Ne vale tre Mi pare Ok Ah le prende due automati Ok Allora Vediamo qua Qui qua ce ne sono altri Li prendiamo tutti Che possono servirci Non so se serve per sbloccare nuovi mondi Sinceramente Ok qua c'è un altro mondo È tipo Come il castello di Super Mario Qua in poche parole Di Mario 64 Oh Oh Vieni qua che t'ammazzo Vieni qua che t'ammazzo No Eccolo Quando mi ha dato questo Qui c'è qualcosa Eh Sapevo io che c'era qualcosa qui dentro Sì ma posso girare dall'altro lato Non lo so Che visuale Buggato Ok qua mi sa che non c'è nulla Ho preso tutto quello che dovevo prendere Oh Guarda chi c'è qua Maledetto Vieni qua lo zio Vieni qua Bellissimo Bellissimo Allora non so se Qua c'è dell'altro Ho visto Ora non so come funziona Il gioco in sé Ho salvato Thomas Chi è Thomas? Thomas turbato Per planare Premi due volte il bussante salto E non avere parola Ah ok sarebbe la X mi pare Che cosa? Beh cadere da un'altissima montagna Precipitare su ghiacciai preistorici Sì ma che cazzo di doppiaggio è? Ma che doppiaggio è? Quindi questo è per planare Perfetto Vai salva salva tutto Salva tutto Anche se non ho la memory card So io come salvare poi Nel vero senso In questo emulatore Allora Oh ma questo Questo la posso ammazzare Bellissimo Ma questo mi dà dei premi A dopo A dopo Vediamo se c'è dell'altro qua Uh Quante belle cose Quante belle cose Qui c'è dell'altro? No Ok Avevo visto tipo un'entrata di qua Ho sbaglio Lo so io Ok c'è Ah no E' proprio bloccato qua E' E' un vicolo cieco Oddio no Dove cazzo vado? E' il primo livello questo? Non lo so Io non ci ho mai giocato Non so nient'altro Di questa cosa Ok no Ci sono sti cosi qua Prima di andare Prendiamo tutto Ok Ah e ma devo ritornare sopra Da qua Vada 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 Spyro Vediamo se c'è dell'altro Fammi vedere se c'è dell'altro Di qua No non c'è un cavolo Non cadere Spyro Mi raccomando Ok Vai Vediamo cosa si fa qua A parte raccogliere Che cazzo sono delle galline Vado Allora prendiamo tutto quello che c'è da prendere So che ci sono vari mondi L'unica cosa che so E' che dobbiamo salvare i draghi E poi si salvano così semplicemente i draghi Non c'è un boss Non c'è nulla Benvenuto a Town Square Spyro Comincia l'esplorazione con una planata fino laggiù Dove ci sono i tori Ah pensate ai tori Usa i guzzati L2R2 per vedere meglio Ok Forse è ancora un po' altino il volume Ok Consiglio leggermente di abbassare Non vorrei che sia altissimo Ok con L2R2 No che cacchio Ah ok Così si cambia la visuale Aspetta ma devo fare un salto enorme per arrivare lì sopra Ma faccio qualcosa se ammazzo i polli Ah non mi da un cazzo I polli non mi danno nulla Perfetto Vai prendi tutto Allora devo cercare di planare fino lì Dove ci sono i tori Se riesco a farlo Eh ottengo premuto il tasto Non mi plana Ma è scemo Dovrebbe planarmi in teoria Oh non mi plana Non mi plana Assurdo Ah forse devo fare due volte Ok Ok devo fare due volte Non tenere semplicemente premuto Eh chi me Oh così semplicemente ammazzare un toro Oh semplicissimo Vai dammi tutto Dammi tutto Vai vai E qui cosa c'è Non c'è nulla Si alza sto coso Che ne so che c'è Ah ok Era più semplicemente previsto E ora dove devo andare Forse devo andare di là Oh vedo Vedo tre Eh vai Ho fatto proprio Il salto perfetto Allora Eh ma la visuala Aspettiamo la giro Un attimo Cerco di girarlo In qualche modo Eh sì vai No Ok no Ho planato giusto Perfetto Oh Ok non Va bene L'importante è che Mi hai dato il mio premio L'ho preso No non l'ho preso Ok qui c'è l'altro drago Sarve Sarve Ah pensavo al culo Sapevi che puoi planare Più a lungo Soprimi il pulsante X Quando ti trovi Nel punto più alto Del salto In che senso Vai vai Ok Quando mi trovo Alla parte più alta Non c'è nulla Non c'è nulla qua Oh zì Non c'è nulla Grazie No l'utoro L'utoro Portacci tu l'utoro Dammi tutto Oh galline impazzite Che sono galline in fuga Vai dammi tutto Vai buona Buona Oh l'utoro L'utoro C'è un'utoro Oddio Dove sta un'utoro Vai vai Buona Prendi tutto Prendi tutto Aspetta c'è un altro drago qua Purtroppo sì Bravo Grazie 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 del consiglio Ok Vai prendiamo tutto Cosa manca Cosa manca Ah devo riuscire ad andare qui sopra Devo andare al punto più alto Oddio c'è Il toro Il toro Devo cercare di andare al punto più alto Per planare fin lì Come cacchio devo fare Non posso saltare qui No Allora devo andare di qua sicuramente Nine Nine Da qua no E dove cacchio devo andare Non posso fare un salto enorme di qua Manca un punto Mi manca Devo salvare l'ultimo drago Però si trova di qua Questo è il problema No No Devo trovare il punto più alto Come cacchio faccio Lo cacchio sta Ancora è dall'altro lato Che devo andare No No Porco due Come cacchio L'unica cosa che potrei fare E tornare a casa Ma Non vorrei fare le cose incomplete Ecco Come cacchio ci arrivo qua Qualcosa ci deve essere per forza Per saltare Il punto per saltare Devo trovarlo Qua sopra non posso saltare Cioè mi porta dall'altra parte Come cacchio ci devo arrivare Come cacchio ci devo arrivare Ah Già al primo livello sto bloccato No Deve essere per forza Qualcosa per saltare Aspe Aspe No Plana mare qua No Qua non c'è un cavolo Ma sono bloccato Non Non fa Dove cacchio sto sbagliando Mi sa che ho saltato una parte sicuro Non ho salvato Un drago Se riesco a vedere Eh Mi sa che devo tornare indietro Devo rifarlo Mi sa Perché ho fatto una cazzata Ti ho saltato sta parte Eh Sicuramente si va dall'altro lato Proviamo Proviamo Può essere pure che Ritornando Riesco a trovare Il modo per fare quella parte Ma riprovia Oh no So caduto Porco 2 Speriamo dove andare di qua Che cazzo vuoi tu Dammi il premio Oh zi Non rubare le cose Oh bravo Oh bravo Dobbiamo andare di qua Proviamo a rifarlo Tanto si capisce dove devo andare Se non me lo fa fare da zero Completamente Ma non credo eh Non credo me lo faccia fare proprio da zero Il livello Madonna sto Talmente raffreddato Che mi si sente una voce di merda Mamma mia Perfetto eh Il giorno giusto per fare ste cose Proprio il giorno perfetto Ok Allora Eh no E mi fa tornare da qua Porco 2 Non mi fa andare dove voglio andare io Però Ah no 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 Mi fa andare Mi fa andare Avevo visto i galli Mi sono Mi sono confuso Eh qua sopra Devo andare qua sopra Eh come cazzo ci arrivo Qui non posso andare Qui non posso andare che c'è l'acqua L'unico modo è planare di qua E vedere se posso fare il giro In qualche modo Vediamo se si può fare il giro Ah No ci sono due cose qua Come cacchio Devo trovare il punto più alto No Porco 2 Porco 2 Porco 2 Porco 2 Perfetto Ricominciamo da 0 L'unica cosa è la visuale Un po' Perché L'unica cosa che si può fare Andare da queste parti Non posso fare altri salti No No Non rotolare Ti prego Ok Così si gira la visuale Ok Ok Vado a trovare il modo per andare Dall'altra parte E mo qua Oddio E' complicato A trovare il punto più alto E' complicato 9 9 Non c'è un sistema per andare qui sopra Non c'è un coso per saltare Letteralmente Ci deve essere per forza il punto per saltare C'è qua C'è sto coso ma non c'è D'altra parte Tutto strano O può essere che è così per forza A sto livello Che ne so E se riesco a fare un salto No Porco Dinci Non è che devo completare quello Mi sa Che è anche probabile Vediamo se riesco a completare quel coso Mi da qualcosa in più Quanto è brutto non aver mai giocato a un gioco E quando lo fai per la prima volta ti trovi nella cacca Niente Ho fatto Io praticamente è questo quello che si fa E so che Ci sono questi punti alti che Non so come si potrebbe fare Questo è plano Questo zoom Questo no Questo spara Un sistema c'è per forza Un sistema c'è per forza Ah porco zio Il complicato è previsto E siamo ancora all'inizio All'inizio di tutto Ma non è che si può sempre rifare Una volta che impari Si può sempre rifare Ah Porca miseria Manca qualcosa per saltare lì sopra Perché ha detto che Se vuoi saltare E andare ad altre parti Devi trovare il punto più alto Il problema è che di qua Dove mi fa andare di qua Se è plano vado di dritto Vado da quest'altra parte Al massimo Quindi non serve a un cazzo Con il punto È un punto inutile Letteralmente È un punto inutile Oddio Non c'è un sistema più semplice Se no Lo rifaccio Pi' là Questo livello Quando riesco a capire Che cacchio devo fare Tanto ce ne sono Un po' di livelli Da fare Adesso Forse devo sbloccare qualcosa Sicuramente Perché Almeno Questo è quello che Penso io Almeno Credo che devo sbloccare qualcosa Per poter riuscire A fare Dei super salti Forse c'è Qualche Qualche potenziamento Ecco Vabbè Ok scendiamo Ok Devo andare Oh Perché non corre Eh vai a cagare Andiamo di qua No Non voglio salvare Voglio prendere Altre cose Che qua c'è Dell'altro Ho visto Serve sempre Ok Lì sopra Non so se l'ho preso Già Ma nel dubbio Nel dubbio Nel dubbio Lo prendiamo Allora che dovrebbe essere Di qua Se mi fa girare La visuale Oh Dai Allora Avevo visto Altro livello Che era Di qua Allora dove L'avevo visto Eccolo Di qua Proprio questo Era Proprio questo Questo forse Dovrebbe essere Il primissimo Se non M'ho derrato Però abbiamo Sbloccato Un po' Di Di Draghetti Dai L'obiettivo È sbloccare Draghi Quindi Vai vai Prendi tutto Mi raccomando Oddio Chi è questo Volevi Volevi E spara No porco Due Meno Non mi ha tolto La vita Le pecorelle Che fanno Mi danno qualcosa A parte Scappare Cosa ho appena sentito Cosa ho appena fatto Sto coso maledetto Di qua Che si fa Di qua Non voglio Lasciare nulla Da parte Quindi forse Ritorno indietro Dopo Oh Chi d'è questo Mago Berlino Ah è un pastore Ecco Chi è Sembrava Mango Merlino Oh e basta A pastore È rotto I maroni Allora forse Per andare lì sopra Devo andare di qua Perché ho visto che C'è una torretta Dove posso saltare Eh Come ho visto bene Io Ah qua c'è un drago Da sbloccare Gildas Spero Amico mio Avrei un consiglio Sulle planate Dica Sono tutto orecchi Per fare una planata Lunga Prima il pulsante X Quando sei nel punto Più alto Del salto E me l'hai già detto Prima Invece Prima il triangolo Ah Aspè Il triangolo Dovrebbe essere Questo qua No No So caduto Va a cagare Non ho capito Altra parte Che devo fare Allora Devo andare di Allora Vediamo dove posso planare Qui c'è l'altro punto Dove devo planare Se mi fa andare di qua Se è esplorabile Almeno non vedo un cazzo Vado dove è esplorabile Molto probabile Potrebbe essere Quel punto No Non è esplorabile Vabbè Meglio a sapersi Oh Prendi quello Mi son fatto scappare Una cosa Ok Drago Uno salvato Dai Andiamo al prossimo Che dovrebbe Essere Ok No C'è qua pure No Lo cacchio Sparo io Ma che cacchio Vai Vai No Porca miseria Buona Dammi tutto Vai Qui c'è l'altro drago Astor Dopo che avrai liberato Tutti i draghi Devi passare In questo meraviglioso Vortice magico Grazie per avermelo detto Proprio la casa dell'artigiano Ma prima Ascolta questa storia No grazie Ci vediamo Proprio da ciaddone No grazie Proprio col cavolo Che ascolto Sono io praticamente Uguale e preciso Io sono Spyro Ok qua L'abbiamo fatto Che era il punto Finale Dovrebbe essere questo Lo devo ricordare Allora andiamo di qua Mi pare che Ah si è qua Non sono andato E qui c'è L'altro drago Lo prima Prendiamo tutto Ciò che C'è da prendere C'è altro Si c'è altro Vai vai E salviamo Quest'altro Spero abbia salvato Tutti i draghi Quando liberi un drago Cammini su un drago Che si trova Su una piattaforma Si Salvi il progresso Che hai fatto Può tornarti utile Se sei nei guai Ottima idea Si dovrò Dovrò schipparti Tutte queste robe Vai ascoltiamo Il consiglio Ok E adesso E adesso Mi tocca Vediamo se c'è Qualche altro Qualche altro Drago da salvare Mi pare di qua C'è altro No Questo è fake Ma mi pare Che ho salvato Tutti i draghi Non c'è Una Almeno Non so Quanti draghi Ci sono Qua In teoria Allora Ritorno Di qua Così controllo Se ho salvato Veramente Tutti i draghi Perché qua Mi pare Mi pare di aver Visto Qualcos'altro Eh lì sopra Devo arrivare Lì sopra Vediamo se ce la faccio Eh ma il problema Dove era Eh tipo là Vai Vai Non cadere Qua Non cadere eh Già è stato Un culo Arrivarci Vediamo se c'è Qualche altro Draghetto Qua Ho capito Dove sono Ho fatto Ok E lì c'è L'altro drago Dimmi che è un drago Quello È un coso blu Ed eccolo Ah no È un tipo Da ammazzare Velocissimo Troppo veloce Sto qua No Hai ammazzato Caduto Buonasera Buonasera a lei Come va Mi sto divertendo Su questo Meraviglioso Gioco Allora mi pare Allora devo andare Al punto più alto Che è qua No mi sa che era D'altra parte Perché se no Di qua Non ci arriverò mai Ci arriverò nel 2013 E poi da qua Devo planare Ora adesso Devo trovare Quel coso Che scappava Lo voglio ammazzare Voleva che mi dà Comunque se vi va Condividete La live No Non lo Oh è velocissimo Minchia se è veloce Aspè Aspè Che qua C'è dell'altro Perfetto Il loot Trovato il loot Di altra roba Praticamente ho scavaccato La mappa Così E io sto controllando Se ho saltato Qualche drago Non vorrei Dimenticare qualcuno Devo salvare tutti Qua Perché non c'ho voglia Di ritornare Successivamente Di qua Aspè si va Da un'altra parte C'è qualcosa A blu Non so Chi è Come fa A correre Aspè Ho il massimo La velocità Di questo Devo cogliere Alla sprovvista Per ammazzarlo O inammazzabile Si può dire così Andrò Trovo il sistema Per arrivare subito All'altra parte Alla parte Dove posso uscire Da questo livello Come cacchio Lo prendo È velocissimo No secondo me È fatta apposta Perché non può Essere ammazzato Però la mia testa Mi dice Che devo fare qualcosa Ah qui non si va Di qua C'è una barriera Salve A colui Che ha mandato Questo suono Con lei Non so Ah è Andre Salve Arrivato un po' In ritardo Ma ok Oh come cacchio Ti devo prendere Maledetto coso Che mi sembra Il draghetto Quello Il draghetto blu C'era un cartone Di sto draghetto blu E mi sembra lui Palesemente E poi non so Se era drago Che cacchio Era Era un Personaggio particolare E se va a tutto il giro Sto lo prendo Da qua D'altro lato Voglio vedere Che mi da Aspetta c'è un coso Qui Bella Ok qui c'è La barriera Dobbiamo sempre Controllare ovunque Perché non voglio Dimenticare nulla Voglio uscire pulito A sto livello Voglio uscire Che ho fatto Il mio dovere Davvero Salvatore dei draghi Come fanno i veri eroi Niente So caduto Vabbè Mi sa che non c'è nulla A parte quello Vai prendi tutto Non dimenticarti Nulla Tanto so dove devo andare E devo andare di qua Per uscire Almeno non vedo altre entrate Non vedo altro nulla Quello che dovevo fare L'ho fatto Qui dentro Eccolo l'altro drago Guarda la libellula Spiro Il potere che ha Di volta in volta Si capisce dal suo colore Quando mangia farfalle È forte Come me Oh sì Certo E saperlo prima Che eri qua Era il primo Che dovevo salvare No Eh Dovevo prendere Altra roba Anzi Anzi Devo prendere Altra roba Non so se E' chiaro Vediamo se c'è Dell'altro Mi fai girare La visuale È bloccato Ci vuole una chiave Qua Manco col fuoco Ma serve per forza Aprire questo O no Vabbè se non serve Sti cazzi Eh Io chiavi Non ne ho trovate Però non so se C'entra qualcosa A quell'altro Coso che devo Ammazzare Non so se Non so se c'entra Allora devo andare Adesso Di No qua no Do cacchio Era l'altra uscita Di qua mi sa No di qua no La specie Ma qua sono andato Ah no E' qua E' qua L'uscita Non mi dice Nemmeno Hai completato Tutto Non hai saltato Qualcosa Non ti dice Nulla Devi capire Tu se hai fatto Tutto Adoro Ammazzare Sti cosi Adoro Eh Come ci arrivo Qui sopra Qualche Stratagemma Sicuro Eh Vai a cagare Per un pixel Per un fottuto pixel Cioè Per un pixel Non riesco a salire Lì sopra E ho preso pure Il punto Più alto Oh Vedilo Vedilo Quando Ci si mette Di impegno Ok Oh Chi dè Maledetto Vieni qua Vieni qua Dammi tutto Quello che c'hai Coso Non devo lasciare Nulla Da parte Qua sono andato Già Prendiamo sti qua Sti smeraldi Mi pare che siano Ah c'è un drago Qua Non l'avevo già salvato Sto drago Delvin Dov'è Nasty Nork Lo arrostirò Frena il tuo ardore Spiro Hai molto da imparare Prima Lo sai cosa fa La libellula Che ti segue Girando d'intorno E cosa fa Si chiama Sparks E viene con te Per aiutarti E proteggerti Minchia Che protezione Che mi dà Sto qua Minchia Che protezione Qui sopra C'è qualcosa C'è tipo Un ponte Ah no Qua Mi sa Che l'abbiamo Già fatto Si C'è il salvataggio Dove devo andare Vediamo un po' Allora qua Ci sono stato Ok Vai vai Dammi tutto Questo l'abbiamo fatto Perfetto Qui sopra L'abbiamo fatto Qui c'è il ponte Tu non rubare nulla Mi raccomando Mamma mia Quanto è bello Avere Le cose Gratis Da sti qua Oh Non uno Non due Ma ben tre Attenzione Allora Andiamo da qua Ho visto che c'è Un'altra Apertura Un'altra Un'altra grotta Dimmi se c'è un livello Di qua Quanta bella roba Forse si bloccano man mano Che sblocchi i draghi C'è appaiono man mano Che sblocchi i draghi Un chino è questo Salme salme chi sei Marco l'aeronauta E spairo vedo che ti sei dato da fare a salvare i draghi Ora se vuoi puoi Puoi volare con me nel mondo Dei pacificatori Andiamo dai Non me lo faccio dire due volte Una cosa del genere Mondo dei pacificatori Minchia che nome Non potevano inventarsi di meglio Coloro che hanno fatto questo gioco Potevano dare nomi più belli A Le mappe Pacificatori Minchia Ti sei sprecato A fare i nomi Proprio sprecato Ma nel vero senso la parola sprecato Non cazzate Mamma mia sto così raffreddato Vediamo dove ci porta Se non ci mette vent'anni Oh siamo già arrivati Oh un drago Un drago Vai vai andiamo a salvarlo Titan Il drago Titan Benvenuto a lei Il nostro tesoro è stato rivolto contro di noi e rubato Ritrova il tesoro Spiro Trovare tesoro ricevuto Vai siamo a 11 Anche se conviene sempre salvare Nel caso Muoia Vai Con me non si fotte Oh Maledetto Ah devo sparare da dietro sto qua Oh Ah sei maledetto Mamma mia Ti ho colto proprio da sprovvista No Oh Oh Eh volevi Volevi Ah qui ho capito che è tipo Un secondo mondo ecco Dove ci sono altri livelli Penso di aver fatto tutto di qua Ah ma si può passare qui Vedo una roba Non so se Se muoio passandoci Ci muoio se ci vado Ci muoio Avevo ragione io Però mai che c'è un salvataggio A cagare Ah ok Quindi mi dava Tipo una vita in più Le cose per sbloccare una vita in più La roba viola non so Come cacchio ci Posso fare Aspetta Dove ho trovato un sistema per Planare E arrivare lì sopra No Porco Due Come cacchio ci devo arrivare lì Oddio c'ho l'ultima vita mi sa Non voglio di cazzate Ma mi puzza Ah no c'ho già la seconda vita Ok C'è un'entrata di là però Sembra un universo post apocalittico Oddio non saprei Sinceramente Io ho la prima volta che gioco a Spyro Cioè lo conosco per il nome del gioco Più di questo Ah no si fa il giro Ok Non so se conviene fare Prima i livelli O prima prendere Tutte le robe qua No Ok non devo andare su ste cose Ci sono proprio delle pozze Vediamo se c'è dell'altro Oh C'è qualcuno qui dentro Top Eh volevi Volevi fregarmi Volevi fregarmi Cioè la storia di questo gioco Da quello che ho capito È che devono salvare Deve salvare i draghi Che qualcuno ha pietrificato E li salvi semplicemente Passando accanto A sti draghi Pietrificati No Ok Ok me l'ha dato Ah per girare la visuale È una palla qua No Madonna che culo Vai mi ha dato un'altra vita No Sali Sali Eh Anaz Buon salve a lei No Prendilo Porco diaz Dica tutto Ma che hanno fucinato Quasi è morto Mamma Mi sembra le stesse cose Sta di E mo di qua Di qua potrei planare Verso di là Sì Mi conviene Ah questo invece Se c'ho la chiave La posso aprire Ma non c'ho una chiave Penso che prima o poi Avrò tutte le chiavi Perché questo è bloccato Ah no Aspe Aspe No non posso passare sopra È inapribile Allora Vediamo se c'è altro Da fare Non vedo altro Lì Mica per caso No Non vedo nulla Di là Perfetto Facciamo prima Tutte le cose principali E poi andiamo A fare i livelli Ah no C'è un drago Di qua Sblocchiamo il drago Magnus Cazzo le nove Salve Sbiro Sparks La lubellula Ti sta proteggendo bene Cerca di mantenerla Forte e robusta Bravo E che le devo Da da mangiare Non c'ho nulla Dodicesimo Drago Eh che cavolo Ok qui c'è il livello Grotta ghiacciata Allora facciamo prima Quest'altro qua Così ce lo togliamo Davanti E non devo fare 3000 volte Avanti e dietro Vai prendiamo Tutti i regalini Di questi qua Che ci danno Un sacco di premi Oh bravo Bravo Oh Volevi E ora devo cercare Di arrivare Di qua Per fare questo Ah no Ci sono due casse Qui C'è tre casse In realtà Posso entrare Di qua Certo che si Vai Andiamo a fare La sfida Del Dr. Champ Oh Tutto sommato Non sto messo male Ok che si fa qua Questo dovrebbe essere Il Dr. Champ Ma che cazzo Oh Tacci sua Muori Maledetto Prendi le casse Qua 10 Addirittura L'oro mi da 10 Di lusso No Porco 2 Buona Buona L'ho preso Non devo cadere giù Vai Vai Oh Porco 2 Perfetto Allora di qua Al che saltiamo Di qua Vai Ormai sono diventato Un pro Di sto gioco Vai Fammi girare La visuale Poi che non vedo Un cazzo No Oh No Ho perso Oh Non mi spara più È un deficit Penso che Se lo ammazzo Mi da Ecco Mi da Queste cose Per la vita in più Salve 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 Vai Dammi Dammi le vite in più Dammi tutto in più No Mannaggia Mannaggia Al clero L'ultima vita Mi è rimasto Oh Ma non spara Spara in ritardo Ma vuoi sparare Porco Zio Ma spara Oh Spara Madonna C'è un deficit Sto drago Beh la rincorsa La contestata Non so come si fa Ci sono Soltanto queste mosse Per ora Nessun drago Me l'ha ancora insegnato Oh Madonna Mi ha fatto fare un volo Con uno schiaffo Pazzo Zero di vita Vai dammi Il coso in più Poi devo avere La vita in più Non gemore Non gemore Porco Due No Ho cercato su google E ho trovato un sito Dove c'era Il modo per scaricarlo Ok Di qua che si fa? Ah si sale Si sale Ok c'è il drago qua Trondo Che cazzo le nome è? Questo qui Pensa di essere Un simpaticone Non puoi immaginare Cosa vuol dire Doverlo ascoltare Tutto questo tempo Ma ti dirò una cosa Madonna I doppi attori Mi sembrano quelli Di Tingo Pictures Uguale precisi Ma lo salviamo Nel dubbio Oh Sto cosa è gigante Ma Ma no Ma no Qua c'è il tasto di avvio A spazio E No Che è successo Da qua Mi ha salvato Ma qua siamo A un altro Un altro punto Aspetta ma sono già arrivato Aspetta ma non ho capito O devo andare Mi pare che sia Si si sono Sono arrivato Devo rifare il livello Vado a trovare Il livello Dammi le vite Dammi le vite Voglio le vite So che Una volta che le hai ammazzate Le rimazzi Le rimazzi di nuovo Ti danno Una cosa per avere Tipo le vite extra Eh ma dove devo andare Devo andare Aspetta Di qua sono andato Ok Ok questo qua è il livello Ok questo è il totale dei tesori Me l'ha salvato Almeno quello Me l'ha salvato Ok i draghi Sono stati salvati Quel tredicesimo drago È stato salvato Questi li posso Li posso pur saltare Ammazziamo Chi mi dà Il coso La vita Così recuperiamo Un po' di vita Oh ma Tacci tua Oh mi ha dato Una vita in più Di lusso Di lusso Di lusso Uso l'emulatore Uso l'emulatore Sì No No Tacci tua Con questo bastone No 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 cazzo vai Drago deficiente Drago deficiente Oh Ce l'ho fatta Easy peasy E quindi Mo mi ha creato Il ponte Ah No 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 Tacci mia Ah E la devo rifare Ogni volta E che cado Non riesco A capire E vabbè Incominciamo Oh bene Oh Incazzato No Non puoi Non puoi farcela Come che cazzo fa Con quel bastone gigante Oh E non gemore Eh Sono diventato 2D Sono diventato Qua due colpi L'ammazzi Gennami la visuale Ti prego Perfetto Oddio Oddio Quanti colpi Le devo dare Oh Un colpo Minchia Un colpo Dai Ce la posso fare Ma che pro Signori Ma che pro Che prosciutto Emo dove andiamo Qua no Qua no O torno indietro No No Qui c'è il punto Ok Questi non si possono prendere Perfetto Qui si ritorna a casa Aspè Ma Ho saltato qualcosa Per sbaglio Ma mi sa di no In teoria Mi sa di non aver saltato Nulla Nel dubbio Si può sempre rifare Quindi Oh GG GG letteralmente Oh GG L'avevo detto Io che ce la facevo Ok Ora dobbiamo andare a fare L'altro Che si trova Grande zio Numero uno Nei salti Dove si trovava Quello Del ghiaccio L'avevo visto Da ste parti Che non li vedo Del ghiaccio Da ste parti Do cacchio L'ho visto Mi sa di qua Da queste parti Era No Questo è quello Che abbiamo appena fatto A mi pare Si Questo abbiamo fatto Do cacchio Da ste parti L'avevo visto Che ho detto Lo faccio dopo No No Spyro Non mi morire Sei troppo Giovine Do cacchio Si trovava Quell'altro livello Non me lo ricordo più C'è l'apsus Forse era questo Ah Facciamo questo Dai Nel caso Tanto uno vale l'altro Non è che c'è Per forza Una linea Una sequenza Che devi fare Per forza Che non c'è scritto Prima qua Poi là Ok Ok Oh Ma chi è questo È il zorro De noi altri Ti devo colpire Ti devo colpire Dove non c'è il mantello E dove ti devo colpire Che tu Te scappi C'è sto mantello Indistruttibile Maledetto Vieni qua Vieni qua Ma che cazzo Devo fare a colpire Maledetto C'è quel mantello Come ti devo Forse ce la sto per fa' Posso anche saltarlo Ma no E chi sono io Oh aspetta Ci sono C'è del loot qua Bellissimo No La visuale Porco zio Porco zio La visuale Te possino So caduto da deficiente Non sono buono A fa' niente Non so buono A fa' niente Come ho fatto a cadere Ma come cacchio ho fatto Che ci vuole proprio Oh porco Due Ma sai che ti dico T'ammazzo prossimamente Ok Ok Chi c'è qua Ah Proprio Mandati da sto qua E Cool Sono proprio I boss Di questo livello Ok Ok Meno male che non sono caduto giù Non c'è nient'altro qui dentro Ok 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 Devo trovare un modo Per salire qui sopra Allora Devo andare da dietro Molto probabile Oh Anvedi Non mi da niente qua Ok Non mi ha dato nulla Vediamo Ok C'era da qua C'era qua la strada Allora Il drago da salvare C'è di là Ok Vai salviamolo Halvor Ma come fanno i draghi A sconfiggere nemici Protetti dall'armatura Ricordati Spiro Le fiamme non danneggiano Il metallo Ma se usi le corna Ce la farai E come Spiegami i tasti Usa le corna Come C'è Usa le corna Grazie Grazie Su questo ci sto arrivando pure io Non mi dici il tasto però Che cazzo lo fai a usare le corna? Beh Ah ancora qualcosa c'è In giro Ma qui non c'è Ma andiamo di qua No Sono caduto Va a cagare Eh vabbè Ma vediamo se Oh c'è C'è qui sopra E qua c'è Una Una cassa Perfetto Non c'è nulla A parto un razzo Poi qui sopra Vediamo un po' Ah no Vediamo se Ecco Cavolo che riesco ad arrivare di qua Qua ci vuole tipo un doppio salto Vabbè Sono importante Aspetta C'è un qualcosa qua Eccolo Un'altra vita Di lusso Ok Qua Controlliamo sempre Che ci Ah qui sopra Allora Vedo se riesco Ok Dovrebbe esserci lì Un'altra Un altro punto Per saltare Oh semplice Eccolo Eccolo che qua Mi dà un altro Premietto Goloso Eccolo Mo' si sale sopra Piano Piano Che cose cadi Ti bestemmio Porco due Che ansia No Va a cagare Dove è stato un draghetto Da salvare No Ma vai a cagare Devo rifarlo Che palle No No Ma perché cado Perché Perché Ma che problemi C'ho io Dai Eh Babbo No 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 Spera ho visto una cosa qui. L'ho visto bene. L'ho visto bene. No. Ma vai a cagare. No. Dai. Basta cadere. Basta. Mi sto appuntando su sta cosa. Eh vabbò. No. 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 Oh. Vedilo che c'era qua il draghetto. Enzo si chiama il drago. Un drago si chiama Enzo. C'è oltre quel fiume. Perché non ti alzi in volo e vai a vedere. Va bene. Ottimo consiglio a drago. E mo. E mo. E mo dove devo andare. Ah ok. E ce l'abbiamo e ce l'abbiamo. Ok. Questo è fatto. Andiamo a fare l'altro livello che dovrebbe essere. Dovrebbe essere. No. No. Aspetta. Mi sa qua. Da ste parti. No. Non è questo. No. Porco. Due. Ancora era di qua Eh vediamo questo dai Vediamo questo Se è fattibile Che cacchio è? Vabbò Che volevi? Oh Ma che nomi danno A sti draghi Ma che nomi danno Un drago cima Conan Vabbò Vediamo se ho saltato qualcos'altro No No Del terreno Ma del terreno Vabbè Oddio, chi c'è? Porco due Ok Oh, quante cacchio di robe c'ho Eh, salviamo anche questo, dai E tu sai planare, vero Spiro? Eh, diciamo E mo qua? Do cacchio sto andando Oh, che cacchio Allora quanta roba Ho un'altra vita di lusso Stavo per rimanere senza Vai dammi tutto Spero abbia preso tutto Ah no c'è un drago lì Come c'è arrivo là Eh mo Eh vabbè Raga non so per quanto tempo Riuscirò a resistere Perché non mi sto sentendo Tantissimo bene Capitemi Eh vabbè Ho distrutto Mi sta distruggendo Sta live mi sta distruggendo Vedo di fare Fino alle 11 Sto sudando Non vorrei che mi sta venendo la febbre E spero di no perché Devo fare delle robe lunedì Faccio ultima tentativa a questo Cosa perdo Cosa perdo Un'altra Tantissimo D'uncazione Non mi sta venendo la febbre D'uncazione Questa è una cosa Questa è un'altra Questa è un'altra Questa è un'altra E' già morto Che cavolo Fatemi fare almeno qualcosa Eh va a cagare Perché ho visto un ponte Devo andare su quel ponte Eh vabbè Ah è che è di qua Ma vai a cagare Eh no Eh no Non era di qua C'è un altro ponte Perché da qua si torna a casa E devo andare di qua Perché ho visto che c'è Un'altra roba Come ci si arriva di là Bella domanda Perché ho visto che c'è un drago Da salvare di là No Oh Allora Ah, non ho preso questi cosi Ho dimenticato di prendere sti cosi C'è un ponte Ma come ci arrivo su quel ponte? E devo salvar sto drago Però è difficilissimo Ah, è difficilissimo Non c'è un modo per salire Non c'è un modo per arrivare Non sono idiota C'è quel benedetto ponte No Vai a cagare Vai a cagare Dai, concentrati Concentrati C'è quel ponte Madonna Come ci arriva Spe No, no No, di qua non ci si arriva Ah Troppo difficile Ho visto il drago Che devo salvare Proprio il drago Che devo salvare No Perché Perché va storto Che devo salvare 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 C'è un ponte Giusto lì ci deve stare il drago Mannaggia Eh, se riuscisse a saltare qui sopra Lo utilizzavo come parte più alta Eh, è collegato al nulla È collegato Il ponte Questa è una cosa odiosa È collegato letteralmente a nulla O serva a qualcosa sto coso Ah no Pensavo servisse A darmi qualcosa in più No ma c'è C'è lì il drago Quella è la cosa che odio Non ci arrivo, non ci arrivo Manca un qualcosa Manca un tassello O c'è una strada che non conosco Che potrei fare Che non si capisce Da qua non c'è nulla Non si capisce Non si capisce Eh, dove devo andare Eh, dove devo andare? No, sono bloccato Non penso possa andare Perché non hanno fatto semplice Un metodo Da capire No Non funziona questa strada C'è il drago C'è il drago su un ponte Letteralmente C'è qua il drago C'è su quel ponte Come ci arrivo È matematicamente impossibile Da Potevo farcela Potevo farcela Dove sto? Dove sto? Potrei tornare a casa Ma non ho completato il livello Quella è la cosa che odio Se mi fai andare qui sopra Ah, porco due Non ci arrivo E non c'è nemmeno un'altra strada Magari ci fosse un'altra strada Magari L'unica cosa è che torno indietro e faccio, se riesco faccio qualche altro livello Perché se no Rimango praticamente bloccato Tanto comunque, ripeto, si può sempre rifare No, non va, non va Non va, manca un qualcosa che mi faccia arrivare qui sopra E' il vero che non riesco a vedere un cavolo La mappa Non vedo altro E va a cagare No Ma vai a quel paese Mi sono perso E mi sono perso Lo cacchio dove andrà Ok Ok ... 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